A Piacenza la vittima dello stupro, il video mi hanno riconosciuta, sono disperata. Sono disperata, mi hanno riconosciuta per quel video. È questo che avrebbe raccontato, a quanto apprende l'Agi, la signora vittima di uno stupro a Piacenza. La signora è stata ascoltata questa mattina dal procuratore di Piacenza Antonio Colonna, titolare delle indagini insieme al PM Grazia Predella, nel quadro dell'inchiesta sulla violenza subita per strada dominica, mentre passeggiava da sola nel centro storico della città emiliana, e avrebbe dimostrato un forte disagio per la pubblicazione del video. La vittima, una donna di 55 anni di origine ucraina, vive e lavora in Italia da molti anni. Ad essere accusato dell'aggressione è un 27enne della Guinea, arrestato per violenza sessuale e attualmente in carcere. Questa terribile notizia è entrata subito nel dibattito sulla sicurezza in Italia, con il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che ha condiviso il video dello stupro sui social media. Un provvedimento che ha scatenato numerose controversie ed è stato anche condannato dalla sindaca di Piacenza Katia Tarasconi, secondo cui, con quel video la vittima ha subito una seconda violenza. Mi metto nei panni di questa donna, penso che oggi non vorrebbe aprire internet e vedere quello che è successo, le sue parole. La procura di Piacenza ha avviato un fascicolo nei confronti di ignoti per il reato di diffusione non consenziente di materiali di riproduzione degli atti sessuali. Questa mattina intanto si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto del 27enne davanti al GIP Stefano Brusati. Il mio assistito non ha visto il video di cui ho riferito l'esistenza e il contenuto. Ha comunque scelto di rispondere alle domande del GIP, fornendo la sua versione dei fatti. ha sottolineato l'avvocato Nadia Fiorani, difensore del 27enne, al termine dell'udienza alla stampa. Ha raccontato di essersi fermato per soccorrere la donna e aiutarla quando è caduta a terra, negando di volerla aggredire e violentare e negando le intenzioni malvagie su di lei. Risulta che si tratti, ha detto l'avvocato, parlando dell'uomo accusato di stupro, di un richiedente asilo politico, in Italia dal 2014, a una fidanzata e non ha precedenti. Lavora, ha un suo reddito e una sua stabilità, vive a Reggio Emilia e lavora a Piacenza in un magazzino, dove viene tutti i giorni. Era qui per una festa con un amico, sembra appena uscito da una discoteca. Sostiene che non aveva intenzione di violentare la donna, ho visto il video ma preferisco non commentare e limitarmi ad assicurare al mio assistito la migliore difesa. Il giudice istruttore ha convalidato l'arresto dell'uomo. Il pubblico ministero ha chiesto il carcere, la difesa ha chiesto la sua scarcerazione. Il giudice si è trattenuto e nelle prossime ore deciderà se applicare una delle misure cautelari. Vi ringrazio per aver visitato il nostro canale YouTube, per cortesia, iscrivervi al nostro canale YouTube, a mettere mi piace e a condividere i nostri video. Cliccate sul pulsante di notifica per essere avvisati dei nostri nuovi video. Grazie